20 anni, classe 2004, difensore centrale, forte fisicamente, destro di piede e un cognome che non può passare inosservato. Felipe Bergoglio è il pronipote di Papa Francesco, essendo il nonno cugino del Santo Padre e quest'anno gioca in Serie D con la maglia dello Sporting Club Tristina. Non è pesante avere un cognome così, per me è un orgoglio, anche a me e tutta la mia famiglia, che un Papa ha lo stesso cognome che noi, quindi è un orgoglio per noi. Lei conosce Papa Francesco, com'è il vostro rapporto? Io adesso non lo conosco in persona, lui è in un'altra città che io, lui abitava in Buenos Aires, ha partito nel 2013 per venire qua in Italia, quindi io non l'ho visto mai. La mia famiglia si ha fatto un viaggio qua e lo hanno visitato tutti e io spero in qualche momento vederlo a lui. Magari porta a Roma tutta la squadra, eh? Magari, magari, non lo so, non so. Adesso sono concentrati qua e dopo vediamo se c'è l'opportunità di andare a vederlo lì, a lui. In famiglia Bergoglio il calcio è una vera passione, anche Papa Francesco è veramente appassionato di calcio. Lui è tifoso di San Lorenzo, di Buenos Aires, io sono di Tagere, di Cordoba, del mio quartiere e sì, siamo tutti appassionati del calcio, la mia famiglia. È vero che nello spogliatoio i compagni le chiedono una benedizione per una buona stagione del Trestina? No, no, non è troppo proprio così, ma sì, mi fanno un scherzo della vendizione per giocare bene, anche per vincere il campionato, ma solo un scherzo tra noi. L'esperienza Trestina dopo Misano, come sta andando? Sono contento di essere qua, lo so, sono consapevole del salto di categoria che ho fatto, io voglio una sfida così, sono contento di poter dimostrare il mio gioco e voglio lavorare per me e anche per la squadra. Grazie, insomma, e quando lo incontra ci saluti Papa Francesco. Va bene, grazie a te, grazie a te.